È opinione consolidata che per un attore è più difficile il teatro perché nel cinema puoi fare più ciac. Non si fanno più take perché bisogna sopperire all'errore degli attori che sbagliano la battuta e sono incapaci. E allora il teatro è più difficile. L'attore è bravo, è buona la prima. Si fanno più ciac perché? Perché magari la messa a fuoco non è sempre perfetta. Abbiamo deciso di cambiare le luci, vogliamo perfezionare il movimento macchina per una certa scena oppure vogliamo giustamente cambiare l'inquadratura, poi per ogni inquadratura si fanno chiaramente più take. Il motivo non è perché l'attore sbaglia e allora il cinema è più semplice perché hai modo di dire bene la battuta. E per questo non è così facile fare il cinema a un certo livello. Perché si fanno più take? Per motivi per di più tecnici. Se gli attori sono bravi è buona la prima. Un altro motivo interessante sono i raccordi per il montaggio. L'attore potrebbe fare dei movimenti minimi o dei gesti che poi non sono raccordabili correttamente nel montaggio. Può capitare che nel fare un'azione magari particolarmente complicata, una scena un po' più complessa, l'attore modifichi la postura del corpo, un movimento in relazione alla battuta che dice e allora per avere l'opportunità poi in montaggio di legare bene le immagini c'è bisogno di rifare la scena cercando di fare più attenzione a questi piccoli dettagli gestuali oppure dei micromovimenti che poi magari non sono ben collegabili nel montaggio. Pensare che l'attore sbaglia la battuta allora la ripete. Cioè è roba veramente che può capitare. Non è che non capiti che uno sbagli una battuta, ma non è quello il motivo. Poi i piccoli dettagli di interpretazione. Un attore bravo la scena la rifà sempre uguale, ma nel farla uguale sarà sempre un pochino diversa. Perché ogni volta ci sarà qualche piccola cosa di cui neanche si rende conto che può raccontare qualcosa in più rispetto alla storia, può dare un elemento in più, può essere funzionale anche rispetto alle reazioni altrui. E allora avere più immagini a disposizione ci aiuta perché poi in fase di montaggio e il cinema si risolve nel montaggio abbiamo l'occasione di raccontare meglio la storia. Cioè la finalità non è essere bravi in scena, la finalità è riuscire a raccontare una storia. E questo vale nel cinema come nel teatro. Le differenze fra cinema e teatro non stanno nella difficoltà, sono due difficoltà uguali e diverse. Nel cinema si lavora sulle piccole sfumature perché la macchina da presa ingrandisce tutto, si vede tutto, si vede il minimo particolare. Nel teatro questo non avviene. Io posso fare anche un lavoro molto attento e minuzioso, però nel teatro tu mi vedrai a 10-20 metri. È giusto stare ben posizionati e lavorare in maniera piccola perché poi arriva l'energia giusta, arriva la corretta relazione fra i personaggi. Però non si vedrà. Uno sguardo giusto per la telecamera, fatto su un palcoscenico, non lo vedi perché è lontano, mentre viene ingrandito dall'ottica della macchina da presa. Al contrario le tensioni corporee che magari in un primo piano cinematografico non vedi, sul palco le vedi. Allora l'attore deve essere bravo a riprodurre le stesse cose, ma con la consapevolezza che sul palco si vede qualcosa che in macchina da presa in quel particolare take potrebbe non vedersi e viceversa. Noi al cinema vediamo con molta accuratezza, molto ingranditi dei dettagli che su un palco non vedresti. La capacità dell'attore è saper gestire queste diverse attitudini espressive. Questa è la differenza fra il cinema e il teatro. Non possiamo dire è più facile e più difficile. O come in certi commenti che mi hanno fatto, ma è banale quello che stai dicendo. È banale se non l'hai capito in profondità. Allora sembra una cosa... Ma in realtà è una cosa che va capita con molta attenzione e la capisci se la fai. E lì ti rendi conto di quello che significa lavorare realmente sul dettaglio oppure lavorare sul dettaglio ma consapevoli che poi è altro quello che si vede. Lo capisce chi lo fa, chi lo prova. Allora il suggerimento che posso darvi è provate, provare, provare, provare. Perché provando ti rendi conto della difficoltà e ti rendi conto dei risultati. Non siamo qui io per primo per darci importanza. Siamo qui per capire. È una cosa bella da provare. L'attore non è bravo. L'attore è utile alla storia. L'acting coach, l'insegnante, non è uno che vuole fare il fenomeno. È uno che cerca in maniera pratica di risolvere quei problemi che ti portano a rendere le storie che raccontiamo in teatro e nel cinema più belle, più credibili, più avvincenti. Non sto qua per fare il fenomeno. Ma manco voi. Se siamo interessati, io sicuramente. Voi non lo so, insieme stiamo cercando di migliorare le nostre storie. Questo.